Per le prossime elezioni amministrative la lista civica cambia a Premolo, candida a sindaco Corrado Seghezzi, 42 anni, impiegato, sposato, due figli. Perché la scelta di candidarsi? Allora, la scelta di candidare il mio nome è nata dal gruppo nel corso delle riunioni tra il gruppo di maggioranza e di attuale minoranza per cercare di costruire una lista condivisa. Naufragata l'ipotesi di costruire questa lista, principalmente dovuta al fatto che non siamo riusciti a trovare un candidato sindaco condiviso, super partes, che in pratica potesse rappresentare i due gruppi, abbiamo deciso comunque di non andare alle primarie, di non proseguire su questa strada, di candidarci singolarmente e il gruppo comunque ha ritenuto di proseguire su questa strada, confermando il mio nome. Da parte mia ho accettato di candidarmi in quanto ritengo importante proseguire sulla strada che abbiamo tracciato in questi cinque anni, dove come consiglieri di minoranza abbiamo cercato di collaborare con la maggioranza e abbiamo cercato comunque di costruire assieme quel clima di riappacificazione che il paese di Premolo ormai cerca da parecchi anni. Personalmente comunque ritengo che pur non andando avanti col progetto della lista condivisa, le riappacificazioni si possono comunque perseguire a condizione però che ci siano un rapporto di lealtà e di condivisione fra i due gruppi. Per quanto riguarda la lista, allora la lista sarà comunque una lista di continuità rispetto all'attuale, si chiamerà comunque Cambia Premolo e sarà costituita da persone che condividono ormai questo progetto da una decina di anni e che comunque sono ancora disponibili a mettersi a disposizione del paese e a mettere le loro competenze e il loro tempo. Per questo abbiamo l'ambizione di proporci come lista di cambiamento in quanto riteniamo che anche per Premolo si è ormai giunto il momento di voltare pagina, di lasciarsi alle spalle sia le persone che le vicende che comunque in questi anni, in questi decenni hanno contribuito a creare le fratture e i dissapori che ci sono stati in paese e che comunque ci portiamo ancora dietro. Per quanto riguarda il programma, allora siamo consapevoli delle difficoltà nelle quali versano le finanze pubbliche, siamo consapevoli dei vincoli di bilancio che ci sono e quindi non vogliamo proporre un libro dei sogni ma vogliamo proporre una serie di iniziative concrete e realizzabili che nel loro piccolo comunque possano venire in conto le esigenze dei nostri cittadini. E per questo motivo il programma si articolerà su tre punti fondamentali, la famiglia, il rispetto e la tutela del territorio e i rapporti tra i cittadini e l'istituzione comune. In merito a quest'ultimo punto vogliamo che i cittadini di Premolo si riappropriano del loro comune come istituzione, che lo vivano, che lo sentano vicino e che non lo vedono più solo lontano e a servizio soltanto di alcuni. Allora un capitolo a parte rappresentato dai rapporti che bisognerà costruire con gli altri comuni, specialmente anche in funzione degli obblighi e delle gestioni associate che inevitabilmente verranno avanti in questi anni. Sono sicuro che ci sarà tanto da lavorare ma che comunque la disponibilità nostra e degli altri comuni a giungere a soluzioni e a situazioni condivise permetterà comunque di operare e lavorare nell'interesse dei cittadini. Questo è il nostro programma, perlomeno in grandi linee, a questo punto starà poi ai cittadini di Premolo a decidere cosa fare.